Nella giornata di lunedì è stata superata quota 2.000 somministrazioni del vaccino Moderna Lab di Clusone, interessati gli over 80 provenienti in prevalenza dal territorio dell'ambito Alto Valle Seriana e di Scalve. Nel palazzetto dello sport della cittadina Baradella sono state inoculate da lunedì 21 domenica 28 marzo nelle due linee attive 1.901 dosi di Moderna. In attesa di poter vedere operative le previste 10 linee che dovrebbero portare a 1.500 le somministrazioni giornaliere, il centro prosegue regolarmente la propria operatività dalle 8 alle 20 su due turni che coinvolgono per ciascuno tre infermieri, uno addetto alla preparazione del vaccino e due medici a giornata. Fortunatamente poche le persone che non si sono presentate, le cui fiale, sono state completate vaccinando alcuni volontari. Nessun disservizio è stato segnalato nella struttura che continua a confidare nella fornitura dei vaccini. Il territorio è risposto prontamente e sono tantissimi volontari che hanno dato la propria disponibilità affiancati dagli uomini della protezione civile che hanno garantito la copertura di tutti i turni. Da segnalare il sistema di prenotazione regionale che ha nuovamente fatto le bizze a discapito dagli insegnanti bergamaschi. Ieri un gruppo di docenti dell'Istituto Comprensivo di Val Negra ha dovuto percorrere 140 chilometri fra andata e ritorno per presentarsi al lab vaccinale di Clusone. Un viaggio di circa due ore e mezza dall'Alta Valle Brembana fino alla Valle Seriana. Quando attivi e perfettamente funzionanti ci sono i centri vaccinali di San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme, distanti sì e no un quarto d'ora da Val Negra.